Riccardo Valentini, quarta edizione del trofeo Intra Mercuri, sempre di valenza nazionale ma anche internazionale con tanti atleti che verranno a giocare qui a Civitavecchia. Sì, il trofeo Intra Mercuri è uno degli appuntamenti fissi dell'estate okeistica Civitavecchiese. È un trofeo che abbiamo voluto iniziare quattro anni fa in memoria del nostro amato e mai dimentico Intra Mercuri, ovviamente in completa sintonia con la famiglia. Il nostro obiettivo è quello di dare un torneo di alto livello che poi ovviamente ci si diverte anche fuori dal campo ma l'okey giocato in campo deve essere di qualità. Anche quest'anno riusciamo ad avere giocatori di livello altissimo, giocatori che hanno giocato il mondiale solamente due settimane fa. Quindi ci sono tutti i presupposti affinché ci sia un ottimo okey dentro al campo e poi essendo un torneo estivo ovviamente del divertimento fuori dal campo. Se le squadre partecipanti con venerdì, sabato e domenica mattina le gare del girone e poi domenica pomeriggio le finali alle 16 la finalissima. Sì, la formula è sempre divisa su tre giorni proprio per concedere ai ragazzi che vengono anche da molto lontano qualcosa di vacanza. Quindi venerdì sera e sabato sera potranno godere del nostro lungomare e della movida civile vecchiese. Anche perché se si vogliono partire di alto livello non si possono spremere troppo i giocatori e concentrare tutte le partite in solo uno o due giorni. Quindi il programma prende due partite al giorno, il tempo effettivo, altri anche internazionali. Calcolate che due vengono dalla Svizzera e sono ovviamente di livello mondiale. Abbiamo fatto di tutto affinché il format del torneo sia il più competitivo possibile. Non a caso c'è anche un monte premi per la squadra che vince il primo posto. Insomma, siamo contenti e ringrazio ovviamente gli sponsor che ci hanno una mano per onorare al meglio la memoria di Indra Mercuri. Svizzera